Sperate che questo è grosso Vieni qua ciccio Ovviamente è deboli all'occhio C'è ciò? Dai Qua io eh Oh! Sta andando dentro Ok Perché sto scemo? Un po' bloccato ragazzo eh Questa è tutta strategia Tutta strategia questa Questa è un altro che Sopra non c'era vedevo Vedevo roba prima Boh Ci sono i cunicoli che No questo stronzetto Non lo stronzetto No 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 I K sono come quelli su Sekiro Un guscio di K Ci sono quelli che Lasciano gli oggetti Cosa è un guscio di K? Molto terra Agu paralisi Ceneri ramo himoroghi è un sacco di oggetti in sto gioco senza perdere amrita amrita sa che danni elementali cura bussio di k immagino sia un materiale è un materiale fortuna continuiamo ok non ho esplorato bene qua speriamo di no schiattarci non ho fatto niente ma veramente niente interessante oh mi stava steccando oh fai scherzisti sto scemo tanto lo stecco aspetta che c'è un deficiente che sta raspando graspa questo quella man no mi fai la presa no 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 mi fai la presa mi fai la presa quando muori sparate sta andando qua ho visto che sta andando qua che stecca qui sono tipo sono tipo i ladri oni classe ladro possiamo far cosi non ho idea so però tre colpi mi fa perdere mi fa consumare cure mi fa consumare almeno libero la zona almeno no che fai ne tutto c'è una zona c'è una zona che fa andare di sopra mi ho saltato qualcosa quello è il continuo ho saltato qua oh vinte bestie c'è una zona c'è una zona di sopra c'è che ho saltato prima di andare al boss ma stiamo scherzando ma quella caduta non shotta quella caduta è l'unica strada che non ho fatto mi sta attaccando dai fa una roba inutilmente eh questa è l'unica zona che non ho fatto questo uuuuuh si eccola qua bene tempo di fare il boss e quella zona si quella dove è sbucata non so non so full danno potenziato apposta adesso si girano istantanei azzerione azzerione guardate che c'è un ciccio qua ai ma che prato la una cosa è arrivata la schiaffa prendi il mio sangue la vampira il demone vampiro demon slayer sei tu aspetta c'è la lancia al fulmine sto qua a quanti parole ok ci siamo grazie grazie vita contro fulmine caduto oggetto buono vita contro paralisi più 4 mi serve assolutamente paralisi probabilità caduto oggetto effetto c'è solo il nome paralisi basta danni yokai assolutamente danno elementale allora con calma questa qua pietra non serve allora vai di ago non so bene come funzioni sto ago sopra niente sopra niente ecco lo dopo lago no 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 schiva Vai attacchi che fanno Dai La fa apposta Per togliermi il coso Oh Morto lì Mi ricordo qualcosina E su un punto mi ha preso No Subito Venga questa roba Ok Non è libero dal fuoco Grazie grazie Mamma mia Ma perché sapevo già un po' quello che facevo Allora mi sono preparato adeguatamente Però Però Tosta questa Questa qua è tutto paralisi Avevamo anche armatura buona antiparasi Un po' Quindi Me la sono cavata in qualche modo Beh i spiriti come l'hanno fatto Andiamo la Lo chunguto Ma Vota C'è Questa Ho Questa È Questa 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 non potrebbe essere un'attività per il mondo. Perchè, potrebbe essere un'attività per questo mondo. Non potrebbe essere un'attività per l'ultima. tra l'altro non interessa combattere Ione a noi nuovo spirito nooo... 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 non è solo il caso di Isshida il mio padre è venuto dalla terra e lo so... e lo so... e lo so... Nagamasa non si tratta... non si tratta... Non ho tempo per questo. Calma, tutto ciò che è stato occupato. Cosa stiamo facendo qua noi? Cosa stai? Chidemi in grado di loro. La chiama? Da. Ciao! Some si? Cosa stai? Cosa stai? Un po' di più. No samurai